Stop alle taglie under 38. Da Christian Dior a Yves Saint Laurent, da Louis Vuitton a Gucci, grandi marchi della moda francese, hanno deciso di bandire dalle passerelle le modelle troppo magre. Icone per decenni di stilisti e ragazzine fashion addicted, ora tutti dovranno adeguarsi alle nuove regole che arrivano da Parigi. La carta proibisce di fatto di utilizzare ragazze dall'aspetto emaciato taglia 34 e di età inferiore ai 16 anni per servizi fotografici. Per i modelli il limite sarà la taglia 44. A maggio in Francia era entrata in vigore una legge che obbligava le indossatrici a fornire un certificato medico di buona salute nel tentativo di affrontare i problemi di un settore che propone modelli di magrezza e bellezza irraggiungibili. Meglio un fisico tonico insomma con qualche curva in più che un corpo scheletrico e poco sensuale.